No, deve velocizzare l'operazione di Milano, va dentro con Samuels, contro Tello Hunter, due pinte, arriva Rez da Lula, lo stoppa, 24 secondi, l'infrazione di Milano. Comunque Milano deve provare a sfatare questo tabù importante per provare davvero a coltivare un sogno che aspettiamo da 18 anni. Il capitano lo vuole coltivare con noi. E in serie apre per Rez, vuole attaccare la balba, Filippondo a schiacciare Thomas Rez. Per Milano, se non vado errato, extra possessi che possono essere fondamentali, soprattutto quando Samuels chiude così. Poi Inse chiama il Gopu, Picarol centrale, si butta dentro il polletto giorgiano, che vola letteralmente, ed ha ancora ossigeno alla Montepassi. Inse chiama il Gopu, Picarol centrale, si butta dentro il Gopu, Picarol centrale, si butta dentro il Gopu.